L'acqua bene comune, da non sprecare e dare per scontato. Così puntualizza Claudio Bodini, presidente del Rotary Club di Cremone, in occasione del convegno tenutosi per la giornata mondiale dell'acqua. Si dà per scontato che si apre un rubinetto e esca l'acqua. E questo non è scontato, perché quell'acqua ha avuto un percorso importante e soprattutto ha avuto una cura importante. Oggi si parlerà anche di un progetto che riguarda le scuole della provincia di Cremona. Come Rotary Cremona e i Rotary del gruppo Terrapadane abbiamo voluto sviluppare un progetto che si chiama ERA, che è l'acronimo di Educazione Rispetto Ambiente, proprio per dare ai ragazzi una cultura dell'ambiente. Nel pomeriggio è stato anche presentato il progetto della Fondazione Banca dell'Acqua ETS per sostenere coloro che in difficoltà economiche non riescono a pagare le bollette. Il progetto unico in Europa è già in funzione a Cremona, Casal Maggiore e Crema. È una fondazione nata nel 2015 per volontà di Padani Acque e dei suoi soci che permette alle persone che hanno una morosità incolpevole con Padani Acque per il pagamento della bolletta di svolgere, assolvere al loro debito, di svolgere dei lavori socialmente utili. È dal 2015 che sperimentiamo questo sistema tramite i tre servizi sociali di tutta la provincia di Cremona, con Cremona, Casal Maggiore e Crema. Tramite quindi i servizi sociali intercettiamo queste persone che hanno bisogno di assolvere il loro debito con Padani Acque. Diamo loro l'opportunità di svolgere servizio alla comunità tramite questi servizi sociali presso anziani, presso la pulizia del verde, presso i comuni e cerchiamo di aiutare queste persone a venire fuori da questa morosità incolpevole.